Nuovo video di Minecraft, dobbiamo arrivare ai Lucky Block da un milione di guadagno Ma soprattutto dobbiamo vedere ferro e bruciare di nuovo nella lava 3, 2, 1, e la sortuna è con lei Ok Me ne vado! Io oggi non partecipo, non parlo Sono ancora molto arrabbiata, quindi... Ma stai sperando che questo nuovo episodio abbia rimosso? No, 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 no Mi compro un pet Sono morto Mi compro un pet Sono morto Allora No, dai! Let's run per due Dai! Ma ce l'ho già! Lo sappiamo perché ce l'hai già Lo sappiamo benissimo Sono arrabbiatissima Lo sappiamo tutti noi A me non sembra molto bello sta zona di Lucky Block Mi sono sembrati abbastanza debolucci Quindi vorrei sbloccare quello da 20.000 Vediamo se ci riesco Allora E' sopravvissuta due volte E io sono morto due volte Ti è trasferita a te? Ho capito cosa sta succedendo E' tutto chiaro, Fer Non mi sembrava che ci fosse bisogno di far così però Io te lo dico Non è colpa mia Non giocare con la lava, Fer L'ho creata io sta mappa, Stef Non te la prendere con me Torna a vendere prima di bruciare, Fer Infatti Noi ho aperti ben tre di fila Pensa al rischio, Stef Sei molto coraggiosa Pensa al rischio Eh sì, stavo sudando, guarda Sei molto coraggiosa Ecco fatto Compro un pet Io finché non trovo Lucky per due Guarda, non mi arrendo Continuerò a comprare quelli da 2000 all'infinito Ho trovato un topo Che cos'è un topo? Ma sai che il feeling... Let's mine faster Bello Per due va bene Il feeling Lucky per due L'ho sentito poco di impatto rispetto al feeling Lucky per uno Eh beh, l'uno ti cambia Sì, ti cambia tanto Sì, 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 sì Io mi aspettavo grandi cose Invece non sono state grandi, Fer Allora 14.180 Io, raga, ho deciso che provo direttamente a sbloccare la seconda zona Da 20.000 Sperando che quei Lucky Bro Siano molto più potenti E poi inizierò a pensare ai pet da 15.000 Alla vita Allora Non mi sembra di stricoli tanto veloce a minare Opreti, 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 opreti Non si è aperta Non sono allora veloce a minare No, Steph Fa schifo sta mappa Basta Io giuro che la prossima volta che mi capita la lava Mi metto in game mode e la schifo Ma non puoi Sì che posso No, non puoi Vuoi vedere che posso? Io posso tutto Chiamo il mago e posso tutto Fede, non puoi Fede Faccio il test Che noiosa che Toglila Fere, hai rotto pure il Lucky Block Roppo tutta la mappa Maledetta Comportati bene e accetta il tuo destino No, no, l'accetto No, 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 no Cito, cito Dai, mi hai fatto morire Ricorda Ma che vuoi da me? Comunque più si va avanti Più capitano questi eventi È quella la cosa La cosa brutta Quindi nella prossima zona Sarà ancora peggio, Steph Quello che penso anche io Per quello poi ti fa trovare tanta corsa Perché tu puoi fare Secondo me un massimo Di due o tre Lucky Block E poi devi correre a vendere Perché sono ci schiatti E vabbè, ma magari A me sta andando sfiga Anche al primo adesso Eh, come ho fatto anche me prima Che non riusciva a fare neanche uno No, 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 ma io e te Siamo due cose diverse Io trovo il Lucky per due subito Allora, ho fame Risco, raga Devo rischiare Quanto è il prossimo? 15.000 Ne compro uno da 15.000 Mi dobbiamo la prima zona Mi dobbiamo trovare A parte speed per tre Quanto mi dà? Io faccio la prima zona Magari funziona Dovrei essere veloce minore Ma non lo sono più di tanto Sinceramente No, vabbè Anche io ho notato Che quel mining per due Bah, sì, buono Sì, un minimo Sei più veloce Ma Bah, capisci Hai comprato una nuova zona? Sì, ma ti ho detto Che in maniera nella prima Nella prima e nella seconda Oh, qui non ti cadono Le incudini Quindi Allora, vediamo cosa succede qua Tanto la cosa brutta Penso che la scopriremo Subito Che bello No Ecco qua Basta E a tema Halloween Bello Io non riesco più a giocare Vengo giusto a vedere Fammi vedere che è Ma Un fantasma ti ha ucciso? Eh, non proprio È un creeper potenziato Vuoi vedere? È rimasto Sono molto triste No Ma non è a tema Halloween Ma dove lo vedi Halloween? È un cimitero Eh, ma spacca le cose Sono a tema Halloween Dove? Lì Perché raga ho 21.800? Scusatemi Perché sei morto Eh, ho capito Ma io avevo comprato la zona Non mi ha fatto pagare la zona? Bello! Sono quasi sicuri Pari Ragazzi scrivetelo nei commenti O non ho pagato la zona O mi ha dato soldi Col creeper esploso Ho trovato un elefante Troppo carino No longer starving Non avrò più fame È molto carino Compro il pet da 15.000 Ti prego non corsa Cosa sei? No Cos'è? Cosa sei? Sei corsa Lucky Lucky per tre Wow Finalmente qualcosa che mi va bene Avevo detto che nel secondo video Di questa mappa Ferre si sarebbe ripresa E meno male Altrimenti era davvero Da chiudere tutto a metà Anzi cancellare tutta la mia parte Steph Proprio censurarla Allora Vi prego Vi scongiuro Almeno al terzo Ok Vado a vendere Sono uscito ad aprirne tre In questa zona E ho un 17 E due 6 Quindi devo scappare in fretta Corri 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 Provo il terzo anche io Ma vendrà malissimo Lo so già Lo so già No ce l'ho fatta Vendi Vendi Dai devo dire Non male Non male Stai trovando molti oggetti Col per tre Sì 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 Se ne trovano tanti Adesso non ti so dire Perché non ho fatto il calcolo Di quanti ne trovavo prima Però sono tanti Sono tanti tanti Ho già 12.000 Avevo speso tutto E di certo non è male Urca Sì 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 Vedo un fantasma L'ho visto Ma mi ha seguito Perché io provo a scappare Ma esplodo lo stesso Praticamente l'ho visto Attraverso le pareti Ok Era illuminato E mi sembrava Sì ti stesse seguendo Eh perché non riesci a salvarti Mi sa È un po' È la nuova versione Della lava e dell'incudiant Sì ho capito Ma è successo solo a me Dai però Basta È due di fila Uno anche nella prima zona Sei un infame Avrei detto così Camilla si è messa Le zampette negli occhi E si è coperta Ha ragione Mi è rimasta anche Una raga Come facciamo A finire questa mappa Non la finiremo mai Come fai ad arrivare A 100.000 In queste condizioni Non so Perché guarda A me sarebbe anche bene Esplodere Ma non puoi perdere il loot Devo continuare a comprare pet Niente Secondo me esiste Quello per diventare vulnerabile Niente Niente Certo che esiste Poi sai che cos'è Che io adesso Che è meno veloce Riesco a rompere le barre Ok Il problema è che il creeper Come lo affronti Sì ma comunque Nella lava bruci Eh però Secondo me Io penso di riuscire A scappare Prima che la lava Mi uccida del tutto Sono quasi eh Scappa No anche se esce fuori Ti uccide Io sono già uscita fuori Ammettiamolo Che ero quasi sopravvissuta Ok Tre vado a vendere Non sfido la sorte All'inizio della mappa Via 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 Sono arrabbiatissima Io sto cercando Di fare i 100.000 Per aprire Capito Voglio comprare L'ultima zona La voglio comprare io Ma è davvero tosta Guarda 30.000 Ok Hai trovato qualche pet Che ti rende invicibile Dammi una buona notizia No Se vuoi io posso continuare A comprare pet E tu continui a farmare I soldi per aprire la zona Esatto Ok Vado 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 Non so se faccio già 15.000 E poi si guarda Stava andando tutto così bene Ne ho fatti tre Mi dispiace Non so Colpino Che ti ha fatto trovare Let's mine fast No non c'è nulla Io te lo dico Ma neanche da comprare Tu non vendi niente amico Non vende niente nessuno Selmy No Arrenditi Dai datemi un oggetto Che mi permette di finire Stamore Cioè A suon di Cose che ti fanno esplodere Non la finiremo Mai Ma proprio Mai Aiuto Scappo Allora io sto provando ad aprirli Continuando a correre Non so Perché mi sembra che vada meglio Non mi convinci Beh a me sembra che vada meglio Non mi convinci Aspettiamo che esploda Steph non riesco più a fare lucky block Mi dispiace Non riesco più a farlo Allora aspetta Non riesco più a farlo Provo io questa strategia No non funziona niente Steph Ti si incolla addosso Quindi Puoi fare quello che ti pare Che non cambia nulla Io adesso ti dico Io vado nella No non venire Non venire No io vado nella vecchia zona Sono quasi convinta di riuscire A schivare la lava Se mi ci impegno Perché mi no talmente veloce Che la rompo prima di bruciare del tutto Io te lo dico Ci provo Guarda Sono uscita Sono uscita Schivo la lava Rimango qui Fere Avevo ragione No no Fere penso di baggarlo Penso di averlo baggato Come hai fatto? Ho aperto 7 lucky blocks Senza morire Come l'hai baggato? Guarda i soldi Come l'hai baggato? Dimmi Correndo mentre li apro E invece che raccoglierli Continua ad aprirne altri È difficile eh Eh come fai poi Se devi stare un minimo fermo Eh esatto Io comunque Steph ti confermo Schivo la lava Rompo le bars Quindi rimango qua Ne apro davvero tanti Sono sopravvissuto Come hai fatto? Correndo via Quindi hai un range Che se raggiunge Corri molto No perché proprio Non vado a luttare Non corro per luttarlo La lascio a terra E poi ci penso dopo Ok Tu fai così Io faccio qui Dai Secondo me è una buona idea Perché io schivo la lava Quindi è perfetto Guarda di nuovo No mi ha preso Ok schivata 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 Ho ragione La schivo Sto bruciando Adesso però la schivo Dovrebbe smettere Smetti in tempi ragionevoli Dai non mi uccidere però Corri in acqua C'è l'acqua a fianco Eh vabbè ormai Non l'ho vista l'acqua Steph Non ha senso questa cosa Che scarzona No non ha senso Non ti lamentare scarzona Ce la stiamo facendo Eh sì Ferre ma se poi compare serve mezzo milione per finire E lì non finisci No Ferre non avevo mai non finita una Non mi interessa c'è sempre una prima volta Steph Vuoi rimanere qui fino alle undici di notte E vuoi deludere i consolini Sì Io sono arrabbiata e quindi non No No Cavola accidenti Sei morta Quanto ti devi allontanare No però sempre ti prende No Ferre è l'unica speranza Niente Niente Allora Ferre ti preparo dei soldi Come fai a prepararmi dei soldi? Farmo mentre arrivi Così arriviamo a questi fantomatici centomila No addio Ha bruciato il loot no? Eh forse sì Forse sì Fammi vedere Sì non c'è nulla Io non ci credo Io non ci posso veramente credere Due Dammi il terzo Uff Vai via Ho un'ansia quando apro sti lucky block Che tu non hai idea Mi stanno sudando le mani Steph Accidenti Non puoi rendere una mappa così stressante Ti dovresti divertire a giocare A quanto arrivi? 97.000 Ci sono Steph Tieni Ferre Tieni 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 Ti do Questi Questi E questi E ce li vi per forza Vai Corri piccola Ferre Corri Voglio piangere in questo momento Centomila Vado ad aprire una nuova zona Giusti giusti mamma mia Giusti giusti Ok Allora eccoci qui Ti dico com'è Ok Sbloccata Ci sono cose strane per vincere Eh per forza Ferre Per forza 250.000 Ok pensavo peggio Allora Qui com'è la situazione? Ferre vedi che ti ha lasciato i soldi Benissimo Ce ne mancano ancora di meno Steph Ce ne mancano ancora di meno Ok Vado a vendere Perfetto Com'è? Com'è la situazione lì? Allora per ora ne ho aperti tipo 4-5 Non mi è successo niente Ti dico la verità Ok Magari è solo fortuna Perché ho appena aperto la nuova zona Molto probabilmente È solo fortuna Perché ho aperto la nuova zona Cos'è questa cosa? Vado a vendere Vediamo quanto mi dà Vediamo quanto mi dà 130.000 Quindi 30.000 Quindi 30.000 ho fatto Eh non è male Non è male Non ti è successo niente brutto vero? No Quindi non ti so dire qual è l'evento spiacevole Steph mi dispiace Esatto È quello che volevo capire Compro un po' di banane Che non ho voglia ogni volta di tornare qui Ferre ma Non è che non c'è? Cosa vuol dire? L'evento brutto Io non vorrei dirlo Capisci? Io spero che per la fine della mappa Ti lasci in pace Perché tanto sono gli ultimi soldi E via Eh non si sta mai Allora io No 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 Aspetta Che c'è? Ferre? Aiuto mi è sceso un colpo Ho aperto un lucky block Ok E mi ha zoomato tantissimo Quindi ero convinta che stavo per esplodere Fortunatamente sto ancora bene E che cosa è successo allora? Non lo so Non è successo niente Boh Mi ha solo zoomato tantissimo e via Ah avevo visto una tartaruga in terra Ti ha seguito? Sì Sono morto Ma quanto ti ha seguito? Scusami Non lo so Neanche l'ho vista io Io ho visto una tartaruga E infatti poi l'ho vista sparire Ed ero convinta fosse un tuo pet Perché come l'ho vista sparire Ho detto vabbè Un pet di Steph Che sei andato con lui Per quello non te l'ho nominata Ti ha seguito fino all'oltretomba Steph Giusto per farti capire E ma dov'è? Io non le ho mai viste Mi ha preso alle spalle come i vigliacchi Io l'ho vista comparire Dopo che mi ha fatto quello zoom Ho visto una tartaruga Ma ti ripeto L'ho vista scomparire Invece ti stava seguendo Non perché era un tuo pet Ma perché ti voleva uccidere Ottimo Ho paura Allora io non vorrei dire Non vorrei cantare vittoria Sembra comunque meno frequente Ma è brutto Quindi comunque c'è l'evento spiacevole Ma Guarda i miei soldi Esatto Non è fastidioso come gli altri Ce la stiamo facendo Tanto basta che lo sblocchi uno dei due Steph Uno dei due Abbiamo finito sta tortura Tortura Opla Allora 180 quasi Ne manca No È comparsa E adesso ti segue? Non la so Non la vedo So che solo che mi ha zoomato la telecamera Quindi vedo per scontato che succede in quel caso Vado a vendere Io scappo Ho paura Mi ucciderà qualcosa Vero? Secondo me Ho zoomato anche a me Vedi? Però mi ha instant ucciso Non ho potuto fare niente Tartaruga assassina Porca miseria Sono una tartaruga assassina Urca Che noia Dov'è? Non la vedo Vabbè Sarà sparita Nel momento in cui Prendo la preda Penso che sia sparita Ma quando mai esiste una tartaruga così cattiva Nel mondo Chiedilo a chi ha creato la mappa Chiedilo a chi fa queste mappe così cattive Ok Rischio ancora Io me ne vado Anche perché ci sono pochi lucky block Gli hai fatti quasi tutti Quindi non ha senso che mi allontano Rischio Magari ci moriamo entrambi E perdiamo tutto il loot Non ha senso Ok Vado No 196 Steph 196 Ho perso tutto Mi dispiace Non lo so È orribile E l'ho anche vista Che paura L'hai vista? Sì è brutta eh Ma lo so Ma molto Lo so Eccola Ma Morti entrambi In sync Morti entrambi in sync Non ci vuole far finire la mappa eh No Non ce la vuole far finire No È una questione di orgoglio Steph Riprendi il piccolo e andiamo Maledetti Sono a 196 mila Non mi manca tanto Guarda quanto corro io Perché corri Per quattro Ah Bravo Perché non lo riusciamo a finire? Ok Piano Steph Piano Piano Ferre Se vuoi ti do tutto quello che ho E cerchi di avere a 250 Sì 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 Smettila Non aprirne altri Devo dimostrare a tartaruga Che io non ho paura Ferre Steph dai ti prego Moriamo entrambi Vieni Esci fuori e dammi le cose Ok Ok Prendi 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 Continuo Vado Vado Ti faccio sapere a quanto arrivo Siamo disperati Disperati Mamma mia che tristezza C'è la tartaruga Sto scappando Ah io sono sopravvissuto Steph ci sono Ci sono Ci sono 263 Vai Fere Vado Vado Corro Steph Come non ho mai corso In tutta la mia vita Andiamoci a rete a questi No C'è la tartaruga Che lo insegue ragazzi C'è ancora? Non lo so L'ho seminata L'ho seminata Vai Vado Ti prego dimmi che alla fine Dimmi che alla fine Dimmi che alla fine E quindi? Meno 236 mila Perché l'hai pagata due volte Ce l'abbiamo fatta Ah Ma Arrivederci Basta Steph Questi lucky blocks Sono terribili In qualsiasi forma Tu li giochi Non fa Basta Ma è più lucky blocks Sì 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 E ogni volta lo diciamo Che è inutile che lo diciamo Comunque Speriamo che questa map Vi sia piaciuta A noi non è piaciuta Qui sotto Questa è bella come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao